Mazzate calde con ragù, con ragù, ti fanno il sieno per te giorni e d'ancheci. Oh 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 oh, le tagliatelle di donna fina, con molto più efficace di ogni medicina. Sensazionale, a pranzasce ne credi a me. Abbiamo parlato di tante cose belle, ma la cosa più bella che tocca al cuore di voi è la pace. Perché voi non volete la guerra, voi volete che nel mondo sia la pace. Adesso tutti insieme facciamo un segnale di pace, un segno di pace. E ci diamo la mano uno all'altro, ci salutiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.